musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi ci siamo ci siamo i server sono andati offline di fortnite sta per arrivare da un momento all'altro la patch 4.5 che ragazzi non introdurrà solamente la nuova modalità parco giochi lo state vedendo ragazzi alle mie spalle oh mio dio è arrivata una nuova se ne parlava io non ho mai fatto un video a riguardo perché non è mai non si è mai detto sui forum si facevano solo delle ipotesi dei concept si vede che epic games ha ascoltato i giocatori ed ha inserito ragazzi la nuova arma che si chiamerà doppio tocco ragazzi la vedete dietro di me sono due pistole una nella destra una nella sinistra e faranno veramente malissimo raga faranno troppo troppo male ci saranno un sacco di aggiornamenti in questo in questa nuova mega patch 4.5 a partire ragazzi dal festeggiamento dell'estate come dicono loro pom con il botto le esplosioni del lanciagranate da adesso emetteranno degli effetti pirotecnici per un tempo limitato in poche parole spariamo i fuochi d'artificio come ci dicono loro raddoppieremo la potenza di fuoco e di divertimento con questo doppio tocco con la doppia pistola ragazzi che troveremo nei chest negli airdrop ovviamente killando i nemici che le hanno già trovati già trovate ci dicono anche che ovviamente arriva il nuovo parco giochi purtroppo solo per un'edizione limitata ragazzi quindi parco giochi sarà per un breve periodo utilizzabile da tutti noi non ci dicono com'è il discorso in realtà dicono la questione delle quadrilogie che è giunta alla fine quindi ragazzi è confermato che il parco giochi si giocherà in minimappe da quattro giocatori potremo sfidare i nostri amici i nostri compagni di squadra termina ragazzi il tutto il discorso dello spaccatutto che da adesso ragazzi è disponibile anche su salva il mondo la nuova granata la vedete dietro di me su salva il mondo arriveranno anche due nuove skin che si chiameranno non me lo ricordo perché in realtà non ce lo dicono ma le andremo a vedere anzi ve le faccio vedere le nuove skin saranno queste ragazzi le vedrete sopra di me vi chiedo scusa ma almeno le vedete anche voi eccole qui non le avevo pronte raga eccole qua le due nuove skin che vedremo in salva il mondo molto molto carine non c'è che dire e in chiusura ragazzi ci sarà la possibilità di costruire sempre in save the world con come un pro builder ci sarà il layout del controller sistemato per costruire più velocemente hanno fatto ovviamente anche delle modifiche invece un po' meno importanti diciamo meno eclatanti su quanto riguarda il piano di gioco hanno messo appunto i fuochi d'artificio nel lanciagranate adesso ragazzi quando noi rimuoviamo i blocchi mentre siamo nella modalità modifica saranno opachi quindi non potremo vedere dall'altra parte del muro raga vedremo sempre invece i colori bianco e rosso e blu per quando sta costruendo quando si sta costruendo qualsiasi pezzo stiamo decidendo di posare sulla mappa hanno separato il salva il mondo e battle royale quindi le impostazioni che noi mettiamo su una modalità non vanno a intaccare quelle che avevamo già nell'altra modalità e hanno modificato il pulsante che consente di ripetere una mission quindi adesso ragazzi credo che non è detto si possa di nuovo rinunciare a fare una missione per quello che riguarda invece la battaglia reale parliamo un attimo di parco giochi dove ci dicono che è un ambiente a bassa pressione dove gli amici possono scatenare la propria creatività potremo costruire delle strutture enormi potremo esercitarci con armi con oggetti e ovviamente combattere con i nostri amici i dettagli della modalità sono i seguenti avremo un'ora per creare giocare e allenarci come desideriamo salta e prova salta vuol dire vai a provarla e prova la versione 1 di playground quindi probabilmente potremo di nuovo farla avremo un'ora per creare giocare e allenarci questo poi lo dobbiamo capire bisogna scendere nella mappa di battle royale con una squadra di amici per un'ora per un'ora c'è il fuoco amico lo sapevamo i giocatori che muoiono si rigenerano se non vengono uccisi nella tempesta la tempesta non inizia a chiudersi per i primi 55 minuti e si chiude solo nei 5 minuti finale le risorse raccolte garantiscono 10 volte le risorse che prendiamo di solito quindi se una volta distruggendo una macchina prendiamo 46 di metallo sto giro ce ne da 4 e 60 verranno generati 100 lama sulla mappa e poi le casse le scatole delle munizioni verranno generate a profusione il 100% del tempo entra anche ragazzi una nuova modalità il final fights team da 12 praticamente bisogna raggiungere come sempre il centro del cerchio e combattere per la vittoria reale la final fight è una modalità simile a battle royale ma solo che al posto dei cerchi che si chiudono i cerchi si fermano in alcuni punti della partita quindi vediamo di capirla bene quando la troveremo anche noi disponibile quando i cerchi hanno finito di chiudersi inizierà il timer per il conto alla rovescia le squadre che sono rimaste vive si daranno battaglia ovviamente fino al termine del canda le squadre con il maggior numero di giocatori dentro saranno ovviamente sarà ovviamente la squadra vincitrice e in caso di pareggio perché c'è anche quello le due o più squadre che sono più in alto legate al comando penso che siano con più kill vinceranno la partita hanno aggiunto ragazzi la double pistol quindi il doppio tocco che toglie 41 nella versione rara fino a togliere 43 nella versione epica utilizzerà i colpi medi di quelli della r si spara con entrambe le pistole con una sola pressione del grilletto quindi one shot two kill può essere trovati nelle chest nelle casse e negli airdrop non c'è la precisione del primo colpo quindi attenzione come sparate anche i primi colpi arriveranno ragazzi delle modifiche anche per il carrello di nuovo quindi adesso se noi killiamo col carrello ci fa vedere da quanto li abbiamo killati con che altezza e dicono in quanto tempo capiamo bene questa cosa hanno ridimensionato anche il danneggiamento alle strutture in base alla modalità di cui in base al tipo di arma che si sta usando perché prima probabilmente non era molto bilanciate attenzione perché adesso le esplosioni invece danneggiano tutte le strutture del raggio d'azione indipendentemente che siano visibili o meno dal centro dell'esplosione quindi attenzione c'è un raggio che danneggia tutto stanno modificando anche delle cose per quello che riguarda le mitragliatrici le slide machine gun le smg le mitragliatrici leggere hanno rimosso la precisione del primo colpo sulla smg tattica hanno aumentato l'accuratezza del 25% e hanno abbassato la penalità di precisione dello sprint del 15% quindi spara ci vedo un po' di più a sparare hanno abbassato il bonus ads del 10% però hanno aumentato il danno di 2 per quanto riguarda invece la mitragliatrice silenziata la smg silenziato hanno aumentato l'accuratezza del 10% il danno di precisione ads del 20% e il danno complessivo di 2 punti rispetto a prima attenzione perché adesso le munizioni per il fucile a pompa non saranno più da 5 pile ma saranno da 4 e il lanciagranate come già vi ho detto due volte viene cambiato perché sparerà dei fuochi d'artificio ovviamente hanno modificato anche il gameplay non voglio continuare a rompervi le valle allora hanno i progressi per le missioni di eliminazione saranno concessi se abatti un nemico con l'arma richiesta quindi attenzione cambia importantissimo cioè dobbiamo fare una kill col fucile di precisione non puoi più buttarlo a terra col pompa e finirlo col precisione devi killarlo col fucile di precisione e poi anche se lo abbatti con un'altra arma ti da la kill con l'arma con cui l'hai abbattuto hanno detto che i muri ora si costruiranno un po' più velocemente e riusciranno ad attaccarsi meglio tra di loro anche se manca un supporto naturale per fare l'edificio le porte che si aprono automaticamente non ci sono più han tolto questo bug che c'era più su console che su pc a me non è mai capitato i picconi finalmente non colpiranno più il carrello e quindi non si può se stiamo il carrello se stiamo guidando come passeggero quindi se andiamo a farmare mentre siamo come passeggeri non danneggiamo il carrello e attenzione perché hanno fatto dei miglioramenti anche alla funzione di pick up automatico per gestire meglio la raccolta di gruppi di armi ci sono veramente una fucilata di bug corretti li leggiamo velocemente allora innanzitutto gli oggetti lasciati cadere ragazzi sull'acqua rimangono sull'acqua non vanno più sotto quindi alleluia li vediamo anche dove sono nel putrito pantano o nel lago non c'è più ragazzi un danno da caduta incredibile se c'è per caso un piccolo lag perché a volte dava il danno da caduta se laggava le casse di rifornimenti non durano più le casse di rifornimenti non durano più brevemente nel mondo dopo essere state aperte sono state battute quindi attenzione ragazzi se noi le abbattiamo rimangono di più e probabilmente non vengono più visualizzate su tutta la mappa allora non possiamo più distruggere le costruzioni colpendole nei punti deboli degli altri edifici dovremmo capire bene cosa intendono per questo hanno sistemato anche il problema che succedeva quando ci venivano addosso col carrello e venivamo rimbalzati attenzione perché adesso i forzieri non creano più pick up non validi ad esempio non troveremo mai due chug non troveremo una brocca doppia di jug a me non è mai capitato di trovarlo sinceramente se a qualcuno è capitato beato lui hanno dato ragazzi ai giocatori la possibilità di prendere l'eliminazione se il giocatore avversario rimbalza e subisce un danno da caduta prima di seguire i danni sufficienti per essere eliminati quindi attenzione se lo nocchiamo col suo danno da caduta ci da a noi la kill i funghi non si riproducono più sugli alberi a putri da pantano meno male e hanno risolto finalmente un incidente che era causato nel terreno del negozio di articoli sportivi a grisi grove questa ragazzi era tutta la nota in italiano della patch 4.5 scusate se mi sono dilungato io vi ringrazio tantissimo e noi siamo qua aspettare che arriva ciao